Allora, io sono mancato per una settimana. Sì, sei stato fuori una settimana, lo so. Ma quel signore lì? Guarda, quel signore lì... Come si è comportato? Ma malissimo! Ha dato il peggio di sé. Ma è vero, no? Sì, malissimo. Ma cacò, tu andi qui, non sai dire. Lo sai, è diventato anche un bugiardo, un trappolone. È vero? Sì, un trappolone. Ecco, che vuol dire? Posso dire una cosa? La posso dire una cosa? Che non è vero che si è comportato malissimo. No, malissimo. È sempre lui che gli è stato le mani addosso. Te dirò di più. Tirata di... Eccolo, è partito. Eccolo. Ma perché a Pasqua come si era comportato? A Pasqua benissimo. Stasettimana? Malissimo. Stasettimana? Malissimo. A Pasqua? A Pasqua benissimo. A Pasqua? Benissimo. A Pasqua? A Pasqua? A Pasqua? Benissimo. A Pasqua? Oh, oh. Benissimo. E adesso come si comporta? Benissimo, eccolo, guarda, eccolo. Eccolo, Cazzo Screi sta partendo. È Ray Arzuga Robinson, eccolo. È arrivata la posta? Guarda, c'è posta per te. Fai, vedi, gira? Cioè, questo è il nuovo stampatore. Guarda, bella, bella. La nuova edizione. E questo chi è? E questo non lo so chi è. Come non lo sai? Ma non c'è idea chi è. Sarà giù? Eh, quello è il cazzo. No. È il cazzo. È Sfera. Ah, è Sfera e basta? Eh. Eh, io vabbè, io sono restato un po' indietro, sono restato a Claudio Villa e a Carla Boni. No, ha detto che è stato sempre solo quando tu sei stato assente, ma non è vero, è diventato un bugiardo ma di quelli matricolati. Quindi si deve vergognare un po'. Si deve vergognare un po', schifare. Si deve vergognare un po', schifare un po', schifare un po'. Parla che la bocca sta ferma e che le mani. Vergognatevene. Le trasmette di dire bugiardo. C'ha ragione comunque. Le trasmette di dire bugiardo. C'ha ragione. No, le minacce no. Le minacce no. No, 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 no. Bugiardo. Perché questi calzoni è... No, smettelo, è deficiente.